Salve, vi mostrerò come configurare Chrome per accedere all'account JDK Educational Prima cosa da fare, aprire Chrome Cliccare qui, accanto ai tre puntini E cliccare su Aggiungi Mettete il vostro nome Aggiungi A questo punto, se hai già un account Chrome, cliccare su Accedi Qui inserite l'indirizzo JDK Educational che vi è stato fornito Inserite la password, anche questa vi è stata fornita Collega dati Si accetto Perfetto Qui potete notare, sia qui che qui, è comparsa un'icona con l'iniziale del vostro indirizzo A questo punto, per accedere alle mail, basta cliccare su Gmail Per accedere agli altri servizi di Chrome, della G Suite, cliccare sui nuovi puntini Qui all'interno troverete un'e-mail dove c'è l'invito per partecipare alle i-meeting Se utilizzate un browser diverso da Chrome, l'operazione da seguire è leggermente diversa Andate nella barra degli indirizzi E scrivete www.google.it Vi trovate davanti questa schermata Ci sono due possibilità La prima, avete già configurato un account Gmail personale Quindi qui è presente già una icona In questo caso dovrete cliccare sull'icona Ed aggiungere un altro account Vi chiederà nuovamente il vostro indirizzo mail JDQ Educational Quindi mettete l'account JDQ Educational Poi cliccate su avanti E inserite la password dell'account JDQ Educational Vi troverete L'icona con il vostro indirizzo email Che ho c'è la JDQ Educational La seconda ipotesi è La seguente Non avete un account Google configurato In questo caso compare accedi Cliccate sul pulsante accedi Vi chiederà Indirizzo email Inserite L'account JDQ Educational Andate avanti Inserite la password Al solito Vi troverete L'icona Con l'iniziale del vostro indirizzo email E qui Troverete La posta Gmail Del vostro account Non mi avanti È veloce Diolta La posta Ancestare